Presso le piscine della Residenza Santese, durante un incontro con la tifoseria con il neossessore allo sport Pietro Cerullo, è stato reso noto il nuovo organigramma societario per la prossima stagione di calcio che vedrà le zebrette in eccellenza. Riconfermato presidente Mario Pumpo, vicepresidente con delega solo al settore giovanile Eligio Cerrato, direttore sportivo Carmine Guariglia, allenatore Vincenzo Fusco, responsabile tecnico settore giovanile Maurizio Mastrolia, dirigenti settore giovanili Cosimo Malandrino e Carmelo Torsello, segreteria CN Sport Agency, di Cristian Noschese, team manager Antonio Magliano, responsabile area medica Francesco della Corte, responsabile di sicurezza Carmine Ferrara. No, è bastato poco, l'ho detto anche nella conferenza, è bastata una chiamata del direttore, semplici parole te la senti, senza sapere niente, senza sapere progetti, senza sapere squadra, la società mi interessa la piazza a me, dove sono cresciuto calcisticamente, dove devo tanto, come io ho dato tanto a loro e quindi per me sentire il nome Patti Pagliese ovviamente non è questa categoria che appartiene a questa città, so che è buono anche mantenerla, stare tutti vicini a questa squadra e quindi ti ripeto è bastato poco. Mister, però questa piazza che conosci molto bene è una piazza molto esigente, la parola d'ordine però rimane sempre a salvezza. Sì, per il momento sì, poi sai, sono piazze che ci possono essere sviluppi positivi, non spero negativi, da un momento all'altro, c'è bisogno della gente, c'è bisogno di entusiasmo, è una piazza che basta una scintilla per far esplodere di tutto, imprenditori, i tifosi sono i primi e so che ci saranno vicini, so che è una piazza calda, ho fatto il capitano per diversi anni, quindi mi sono esposto sempre per primo, so cosa significa e so cosa significa lottare per questa maglia. però ovviamente partiamo per la salvezza e tutto quello che viene è di più, spero e questa piazza merita di più, quindi ci vuole una mano di tutti. Tutti con noi è uno slogan coniato per proprio avvicinare la città alla squadra, vale a dire che è un contributo che garantisce le gare casalinghe della Battipagliese, un contributo di 100 euro che mi auguro che tanti battesi facciano, perché è uno slogan per quest'anno ma mi auguro che diventi anche uno slogan per le stagioni successive e creare una sorta di azionato popolare, di modo che a questa città possa essere garantito il calcio ogni anno, senza aspettare, senza avere sempre i soldi patemi d'animo di ogni estate.